Continuano le problematiche nel comune casmeneo legate alla stabilizzazione dei precari. Sulla stessa linea di polemiche anche Chiaramonte-Gulfi. A Comiso a protestare con un sit-in sono i lavoratori ex LSU, che sono stati stabilizzati dal 2010 con dei contratti di lavoro a tempo indeterminato part-time. Gli stessi lavoratori da tempo chiedono l'integrazione oraria. Tuttavia il sindaco Filippo Spataro e la sua giunta hanno approvato un'integrazione di 6 ore per 24 ore settimanali, ma solo per 47 dipendenti. Ne restano esclusi gli altri 100, ma entro il 2018 è previsto che il monte ore aumenti per tutti. Prossimamente l'integrazione oraria dovrebbe arrivare anche per altri 15 dipendenti. Ma gli esclusi al momento non ci stanno e chiedono parità immediata di trattamento. La soluzione, in base alle finanze dell'ente, potrebbe essere un monte ore minore per tutti. Ma neanche questa soluzione accontenterebbe tutti, soprattutto chi le ore se le è già viste aumentare. L'amministrazione per ora non fa un passo indietro, mantenendo la linea fino ad ora intrapresa, che le ore sono state aumentate nei settori dove ce n'è effettivo bisogno, che corrisponderebbero al corpo dei vigili urbani e al settore tecnico. I sindacati di categoria CGL e CISLE hanno già avuto un incontro con il prefetto Maria Carbela Librizi e ora chiedono al sindaco Spataro l'impegno di trovare una soluzione ottimale per tutti. Situazione simile a Chiaramonte-Gulfi, dove l'avvertenza interessa invece i 35 LSU, per i quali il Comune non ha mai avviato le procedure di stabilizzazione. Il Comune, nel 2010, non aderendo alla legge di stabilizzazione, poteva poi provvedere a stabilizzare solo quattro dipendenti. Ieri i lavoratori hanno incontrato, durante un'assemblea, il vicepresidente vicario dell'Assemblea regionale siciliana Antonio Venturino, che è firmatario di un disegno di legge che prevede un percorso definito di stabilizzazione per tutti i precari di vari comuni siciliani.